Benvenuti al concerto di fine anno che il Premiato Corpo Musicale vuole dedicare a voi tutti. Quale augurio di buone feste e di un nuovo anno ricco di anno e prosperità. Dopo un successo di questo anno molto importante per il nostro paese, vogliamo chiudere questa stagione musicale in bellezza con un programma molto trizzante da cattivante. Apriamo il concerto di fine anno con National L. Il concerto di fine anno dirige il maestro Antonio Manchi. Grazie. 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 Buon ascolto. Grazie. Buon ascolto. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Buon ascolto con Invicta. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti.